Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di suoni di passi, sicuramente fondamentali nell'ambito del game audio, del cinema e di tutti quegli ambiti in cui troviamo un personaggio che si muove in un ambiente e abbiamo bisogno di suoni che vadano a evidenziare il movimento dei piedi o nel caso appunto di un personaggio inventato di una parte del corpo che va a toccare, una superficie come può essere l'asfalto, la neve, l'erba e vogliamo andare a sonorizzare questo movimento. Sicuramente è fondamentale perché vogliamo dare all'ascoltatore proprio il senso che questo personaggio sia reale, che si stia muovendo in un certo spazio. Se proviamo a guardare qualsiasi scena di un film o di un videogame senza suono dei passi, noteremo che manca davvero tanto a tutto quello che riguarda l'immedesimarci in quella situazione. Quindi è veramente una cosa che spesso viene un po' sottovalutata, che sembra semplice sempre da realizzare ma sono dei suoni davvero importanti. Se ancora non l'avete fatto comunque vi invito ad iscrivervi al canale ed abilitare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Oggi parliamo di un plugin gratuito della HeliSound che è dedicato appunto alla creazione di suoni di passi, quindi per sonorizzare delle scene che possiamo trovare ad esempio in un cortometraggio oppure per avere una base per creare suoni da aggiungere poi a un software come Unreal o Unity. esiste una versione a pagamento che è ovviamente completa dalla possibilità di avere vari tipi di scarpe fondamentale, vari tipi di materiale su cui camminare. Oggi proviamo quello gratuito perché semplicemente mi sono trovato bene, volevo condividere con voi l'idea se questa tipologia di software può essere utile in tutti i casi quindi nel game audio e anche nella sonorizzazione di filmati. Se siete interessati al plugin andate qua sotto in descrizione trovate il link per poterlo scaricare, basta iscriversi alla pagina ci vogliono due minuti e riceverete il link per scaricarlo. Qua su Cubase lo utilizziamo come una traccia instrument perché avremo bisogno di una tastiera MIDI per appunto mandare l'impulso per dire al plugin di farci sentire il passo, volendo si possono anche inserire le note MIDI a mano ma è più veloce con una tastierina. Audio steps, versione gratuita. Troviamo varie sound banks che corrispondono alla tipologia di scarpe e alla tipologia di terreno su cui stiamo camminando. Noi abbiamo solo gravel e scarpe da tennis. Utilizzeremo questo video di GTA su cui appunto cammineremo su questa superficie e vediamo se il plugin funziona. Molto semplice da capire, la tastiera viene divisa in due parti, alcune note saranno i trigger che appunto faranno partire il suono, un'altra parte nell'ottava sotto ci servirà per cambiare la velocità. Vedete che adesso sto cambiando con la tastiera, cambia. abbiamo poi i vari controlli per mandare il suono. Piede sinistro, piede destro, abbiamo normal che è il passo normale, skid che è la strisciata, anche scuff, sono degli effetti aggiuntivi che sono sicuramente molto utili quando dobbiamo fermare il personaggio o si muove in un modo particolare e on spot è una possibilità aggiuntiva per andare a completare. Poi abbiamo la possibilità di modificare la distanza microfonica comoda, molto comoda, così siamo distanti e così siamo vicini. Full step distance, questa è la prospettiva del microfono e la distanza anche qua dei passi, equivale più o meno alla modifica di volume e viene applicato un filtro. Possiamo utilizzare la randomizzazione del pitch, quindi dell'intonazione. Attualmente non c'è la randomizzazione del pitch ma solo dei sample. Se facciamo questo sentite che cambia il pitch quando premo lo stesso tasto, trasposizione generale e l'applicazione di un filtro per dare appunto volendo la sensazione che ci stiamo spostando. Adesso non parliamo più e facciamo una prova. Qua poi troviamo anche un inviluppo comodo se vogliamo ammorbidire o meno l'attacco, la release o il sustain. Partiamo. All'inizio camminerà, poi inizierà a correre. Lo registriamo in due parti. Attualmente stiamo camminando in versione media, poi metteremo fast quando corre. Facciamo play e premendo sulla tastiera midi, registrerò le note in tempo reale. Poi andremo a correggerle se necessari. Ok, più o meno ci siamo, riguardiamo. Poi se c'è bisogno di metterle a posto basta andare frame per frame a risistemarlo. La cosa comoda ed era una delle mie domande è questa. Ovviamente se noi abbiamo a disposizione la possibilità di registrarlo, in questo caso noi avremmo bisogno di un foley artist o comunque avere la possibilità di avere vari materiali nel nostro studio che diventa molto scomodo. Quindi si presuppone che in situazioni semplici abbiamo registrato prima i sample e poi andiamo a metterli uno a uno in relazione dove vediamo il movimento. Questa cosa però è comoda in ogni caso. Si possono poi creare delle librerie con contact o quello che vogliamo. Questo è molto comodo perché è già tutto realizzato e possiamo poi andare a modificare in tempo reale tutto quello che riguarda il plugin. Quindi se io adesso non posso perché ho la versione gratuita ma posso poi volendo andare a cambiare il materiale, la tipologia di scarpa una volta che io ho già registrato la parte midi. Questo perché appunto va a prendermi le note midi e mi va a richiamare un suono determinato e posso comunque andare ad agire su questi controlli senza dover rifare l'esecuzione. Adesso io ho fatto la parte di camminata media. Prima di iniziare però vado a fare un reset richiamando appunto la versione media in modo che qua all'inizio vada sempre a richiamarmi il medio. Io andando a vedere ho registrato appunto un'altra nota. Adesso andiamo a registrare la corsa. sentiamo più o meno. Utilizziamo anche skid e scafo on spot per fare il momento in cui si gira. ok e poi dovremmo riprendere. Adesso che abbiamo registrato la parte midi non è precisissima andrebbe poi fatta anche perché quando corre veloce bisognerebbe andare a vedere esattamente nei frame. Proviamo a cambiare prospettiva. Quindi supponiamo di cambiare la distanza della camera. Vedete che è molto realistica come cosa. funziona funziona molto molto bene. Proviamo a creare questi suoni con meno attacco. Vediamo cosa succede. ovviamente nella corsa c'è troppo poco attacco. Proviamo a toglierlo. molto meglio. Vediamo cosa succede aggiungendo la randomizzazione. Non ha al massimo. Facciamo un 50%. un po' troppo. Si sente un po' troppo il cambio di pitch. Andiamo ad andare un po' indietro se no non si resetta. direi che funziona molto bene. Prendendosi un po' di calma secondo me si riesce a ottenere un ottimissimo risultato. Infatti per alcuni ambiti stavo valutando appunto di vedere se può essere una cosa che mi può essere utile. direi che il risultato è molto accettabile. Una volta capiti i comandi, ricordandosi bene quali sono i tasti che cambiano la velocità, quali sono i modi appunto di modificare le impostazioni, è velocissimo da utilizzare. Si riesce a ottenere un risultato ottimo perché i sample sono di qualità. Ci sono anche software molto simili come quelle di Crotos Audio. Per creare sonorizzazioni su un filmato è molto molto veloce. Ci sono delle modifiche sul suono quindi più o meno vengono coperti tutti i casi in cui non si ha bisogno solo di un semplice passo ma strisciamenti, un passo un po' più leggero, un po' più forte. Se si vuole la naturalezza l'unica cosa che si può fare ovviamente è utilizzare un Foley Artist o registrarseli da solo in studio se si vuole fare tutto in modo precisissimo. Se vogliamo fare un qualcosa che comunque funziona bene, magari abbiamo poco tempo a disposizione, secondo me è uno strumento ottimo. Nel caso di game audio in cui i sample verranno poi esportati singolarmente, ovviamente questa tipologia di prodotto può essere utile perché ovviamente sono dei sample audio. Perde un po' il senso l'utilizzo di tutta questa interfaccia perché non verrà sfruttata, quindi semplicemente dovremmo esportare questi sample e basta. Si potrebbero utilizzare però magari miscelandoli con altri suoni che abbiamo registrato, quindi avere un rinforzo più qualcosa di personale. Questo magari permetterebbe di avere un suono più ricco, un suono con una base già pronta e qualcosa di personale che noi introduciamo. Fatemi sapere se questa tipologia di software può essere utile nelle vostre produzioni e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!